Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici e buon ultimo giorno dell'anno! Oggi si conclude questo anno 2021 e lo concludiamo in bellezza, con la parola di Dio. Una parola che ci dona uno sguardo di speranza e gratitudine verso Dio. Vi invito a leggere insieme a me il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetti 1, 18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria. Gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, Era di Lui che io dissi, colui che viene dopo di me e avanti a me, perché era prima di me. Dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità avvennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Amen. Carissimi, quanto è importante oggi, in questo ultimo giorno dell'anno, lasciare che questa parola penetri dentro il nostro cuore, in tutta la nostra vita e ci accompagni. E il mio invito oggi, in questo commento, è lasciare che questa parola possa donarci occhi nuovi per il prossimo anno 2022. Oggi vorrei fissare soprattutto lo sguardo su alcuni piccoli concetti, piccole espressioni che abbiamo in questo Giovanni 1. Innanzitutto, di come Dio si è manifestato in noi, in questo anno. Dio si è manifestato nella nostra vita. Quanto è davvero importante, fratelli e sorelle, sapere che Dio non ci ha abbandonato. Sapere che Dio è stato al nostro fianco. E' vero che potremmo fare, disegnare in una pagina una parte bella dei doni e una parte negativa delle difficoltà, delle sofferenze, dei disagi che abbiamo avuto, e vedere, calcolare, se sono stati più i doni o più le difficoltà, più gli aspetti positivi o più quelli negativi. Ma in verità, carissimi amici, vorrei dirvi che la parola di Dio ci parla di ciò che rimane, di ciò che permane, e cioè Giovanni 1,16 Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E io voglio testimoniare a voi, in tante situazioni di quest'anno, in tante difficoltà, anche in tanti giorni molto belli, splendidi, che Dio è rimasto fedele alla sua promessa per me. Dio è rimasto fedele alla sua alleanza. Dio mi ha donato di sperimentare, anche nei momenti più difficili di questo anno 2021, la sua grazia. Anche nei momenti di crisi, nei momenti in cui io mi sentivo smarrito, nel buio, nelle tenebre, Dio ha riversato nella mia vita la sua grazia, la sua luce, il suo Spirito Santo. Ecco quello che io vi voglio condividere, carissimi amici. Vi voglio condividere che in questo anno 2021 lo Spirito Santo ci fa vedere che malgrado tante difficoltà, tante nostre cadute, ma Dio è rimasto fedele. Dio è rimasto al nostro fianco. Dio è stato quell'amico che non ci ha mai abbandonato, anche quando noi lo abbiamo pensato e anche quando i nostri occhi non hanno saputo vedere la sua presenza. Carissimi amici, lasciamo che al termine di questo anno sia la parola di Dio a rivelarci la verità. Dio è l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio che non mi ha abbandonato quest'anno. è vero sono stato messo alla prova o come dice il Salmo 23 sono andati in una valle oscura ma tu o Dio che sei il mio buon pastore non mi hai mai abbandonato perché io ho sentito il tuo vincastro, il tuo bastone, il tuo pastorale che era al mio fianco e mi sono potuto aggrappare a te. Quindi cari amici io vi lascio come ultimo slogan di questo anno 2021 proprio questo. Giovanni 1,16 e lo personalizzo chiaramente per voi. Nel 2021 abbiamo ricevuto grazia su grazia. Amen. E questo è il modo migliore per terminare l'anno. Dilli grazie al Signore Gesù perché si è manifestato fortemente in noi. Dilli grazie per tutto quello che ci ha donato. E allora la preghiera di oggi e la vorrei fare accompagnato dal Salmo di oggi 95-96. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore uomini di tutta la terra. Cantate al Signore benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Gioiscano i cieli, esulti la terra. Risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. O Signore, in questo ultimo tempo di questo anno vogliamo cantarti un canto nuovo. Vogliamo lodarti con tutto il nostro cuore. Benedire Te che sei vivo, che sei stato al nostro fianco in questo anno. Io Ti ringrazio, Signore. Io canto al Tuo nome e voglio gioire, O Signore, perché so che mi prepari qualcosa ancora più grande nel prossimo anno. Grazie perché sei l'amico fedele. Grazie perché sei l'amico che non mi abbandona mai. Grazie, Signore Gesù, per la Tua misericordia, perché la Tua mano e il Tuo braccio forte non mi ha mai abbandonato. Io Ti benedico, Io Ti esalto e a Te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Tieni, carissimi amici, davvero che sia per tutti noi questo slogan. Nel 2021 abbiamo ricevuto grazia su grazia e noi come cristiani abbiamo il volto, la nostra faccia che è sempre risollevata verso il cielo. Dio è fedele. Dio non mi ha abbandonato. Dio non mi abbandonerà mai. Amen. E oggi, come anche in altri giorni prossimi, vi vorrei accompagnare in questi finali dei commenti con alcune piccole testimonianze sulla scuola biblica, proprio perché da gennaio inizieremo un nuovo anno e sono aperte quindi le iscrizioni. Però vorrei, proprio col consenso dei nostri, dei miei studenti, leggervi delle piccole testimonianze perché siano davvero loro quei testimoni, potrei dire, veraci di un'esperienza di un anno di scuola biblica. E' questa che vi leggo oggi, la testimonianza di Carmela. era da tempo che desideravo desideravo conoscere meglio la Bibbia perché mi rendevo conto che leggere la parola del giorno e recitare le lodi il mattino non mi riempiva. Mi sentivo vuota dentro. Quando sentì che padre Luca annunciò l'inizio della scuola biblica, ebbi subito la chiamata. Alla lontananza i miei vari impegni mi frenarono. Poi scrissi a padre Luca e lui mi incoraggiò a fare la scuola biblica così mi scrissi. La scuola biblica è stato un fantastico viaggio tra le pagine della Bibbia. Mi ha aiutato a conoscere tante nozioni, tanti eventi che prima non conoscevo. Ogni tappa è stata una perla preziosa che mi ha insegnato come è nata la Bibbia, da chi è stata scritta, cosa sono i Vangeli, fino agli eventi pasquali. Ogni lezione è facile, molto utili i video di padre Luca che ci ha spiegato meglio la lezione. Bianca, la nostra sorella, responsabile e segretaria della scuola biblica, è stata sempre gentilissima e molto paziente con me. Interessanti i compiti che dovevamo svolgere attraverso i quali ho avuto un contatto diretto con la Sacra Bibbia. Devo essere sincera, prima della scuola biblica aprivo poche volte la Bibbia. Ora, con il metodo che ci hanno insegnato, la leggo tutte le mattine, la medito ed ho scoperto che la parola è viva, Gesù è vivo e mi parla ogni giorno. Basta solo confidare in Lui. La scuola biblica mi ha insegnato ad avere un contatto diretto con la parola. Questo desideravo perché prima l'ascoltavo, la leggevo e non capivo niente. La parola sta cambiando il mio modo di pensare, di comportarmi, di parlare. Infatti, cerco di evitare discussioni inutili, giudizi, mormorazioni, eccetera. Ora sento una grande pace nel mio cuore e mi sto distaccando anche dalle cose che prima ci tenevo tanto. È proprio vero che la parola ti cambia. Durante questo corso sono aumentate anche tante prove, problemi e non so perché alcuni amici si sono allontanati da me ma io continuo a confidare solo nel Signore. È una bellissima esperienza perciò invito tutti ad iscriversi perché è molto utile poi se ha cambiato una tosta come me vale la pena provare. Io ringrazio di vero cuore la Cuinonia Giovanni Battista per questa bella opportunità che ci hanno offerto e per tutto il lavoro non facile che hanno fatto per noi. un grazie particolare Padre Luca il Signore vi benedica e vi ricompensi cento volte e tanto un abbraccio Carmela. Grazie Carmela della tua testimonianza cari amici chi vuole iscriversi nella nostra scuola può entrare nel nostro sito c'è la pagina dedicata. Grazie che mi avete accolto buona giornata a domani al prossimo anno. Oggi è nato per noi il Salvatore 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 cantate al Signore un canto nuovo cantate al Signore uomini di tutta la terra cantate al Signore benedite il suo nome oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore annunciatevi giorno in giorno la sua salvezza in mezzo alle genti narrate la sua gloria a tutti i popoli dite le sue meraviglie oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore gioiscano i cieli esulti la terra risuoni il mare e quanto racchiude sia in festa la campagna e quanto contiene acclamino tutti gli alberi della foresta oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore davanti al Signore che viene sì, Egli viene a giudicare la terra giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi oggi è nato per noi il Salvatore oggi è nato per noi il Salvatore